Una recente visita del ministro della Sanità tedesco, Karl Lauterbach, in Italia ha scatenato una vera e propria tempesta mediatica. Il politico, che è anche un esperto epidemiologo, ha condiviso i suoi timori riguardo all'ondata di caldo africano che ha colpito l'Europa meridionale. Il 13 luglio, Lauterbach aveva espresso le sue preoccupazioni su Twitter, sottolineando che l'attuale situazione climatica potrebbe mettere a rischio il futuro delle destinazioni turistiche nella regione. Tuttavia, le sue parole non sono passate inosservate. Andrea Giambruno, noto conduttore del popolare programma Diario del Giorno su Rete 4 e compagno di vita della Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha risposto con una replica piccata e sorprendente. La Merkel sta qua, ha dichiarato Giambruno, lui sta sempre qua. Se non ti sta bene, replica il conduttore, stai a casa tua, stai nella foresta nera. Stai bene, no? La risposta del conduttore ha immediatamente sollevato una bufera di reazioni tra il pubblico. Molti si sono chiesti se la sua reazione sia stata eccessiva o giustificata, mentre altri hanno sostenuto la sua posizione difensiva nei confronti della sua patria. Le opinioni si sono spaccate, con alcuni critici che hanno visto la risposta di Giambruno come un attacco personale al ministro tedesco. Mentre i suoi sostenitori l'hanno applaudito per aver difeso l'Italia e respinto le critiche straniere riguardanti il clima. Questo enigmatico episodio è sicuramente un esempio delle tensioni e delle controversie che possono scaturire quando si affrontano questioni climatiche e politiche internazionali. L'incontro tra il conduttore televisivo italiano e il ministro tedesco ha acceso il dibattito sulla gestione del cambiamento climatico e sulla percezione delle sue conseguenze. Lauterbach ha espresso preoccupazione per il futuro del turismo nell'Europa meridionale, a causa delle ondate di calore sempre più frequenti ed estreme. Mentre Giambruno ha difeso con vigore l'Italia, invitando il ministro tedesco a concentrarsi sui problemi del suo paese. Al momento, la situazione sembra ancora aperta a dibattiti e discussioni, lasciando il pubblico a chiedersi quale sarà l'epilogo di questo acceso confronto tra il conduttore televisivo italiano e il ministro tedesco. Le reazioni contrastanti mostrano quanto sia complessa e delicata la questione del cambiamento climatico e come questa possa alimentare dibattiti accessi tra diverse nazioni e personalizzate politiche. L'incontro tra il ministro tedesco della Sanità e il conduttore televisivo italiano ha messo in luce l'importanza delle questioni climatiche e della cooperazione internazionale per affrontare le sfide globali. Il modo in cui queste controversie verranno gestite e risolte potrebbe avere un impatto significativo sulle relazioni internazionali e sulle politiche riguardanti l'ambiente e il turismo nell'Europa meridionale. L'episodio ha anche suscitato un richiamo all'azione e alla collaborazione internazionale per affrontare i problemi del cambiamento climatico. I timori di Karl Lauterbach riguardo alle conseguenze delle ondate di caldo africano sull'Europa meridionale riflettono le crescenti preoccupazioni globali riguardo all'aumento delle temperature e agli eventi climatici estremi. Questi fenomeni rappresentano una sfida comune che richiede uno sforzo congiunto da parte di tutte le nazioni per affrontare il cambiamento climatico in modo efficace. Questo confronto tra un politico tedesco e un conduttore televisivo italiano ha anche evidenziato il ruolo dei media nell'informare il pubblico su questioni cruciali come il cambiamento climatico. L'utilizzo dei social media, come nel caso del tweet di Lauterbach, permette ai politici di raggiungere un vasto pubblico, ma allo stesso tempo rende le loro opinioni più suscettibili a controversie e reazioni rapide. È fondamentale che i media e i giornalisti forniscano un'informazione accurata e bilanciata sulle questioni ambientali, in modo da facilitare un dibattito pubblico informato e costruttivo. Questa situazione controversa può essere un'opportunità per incoraggiare un dialogo costruttivo e una maggiore comprensione reciproca tra nazioni e culture diverse. Invece di reagire con risposte emotive o offensive, gli attori politici e i rappresentanti dei media potrebbero cercare di ascoltare e comprendere le preoccupazioni degli altri paesi riguardo al cambiamento climatico. La cooperazione e la condivisione delle conoscenze possono portare a soluzioni più efficaci e sostenibili per affrontare le sfide ambientali globali. Infine, l'episodio ha sollevato interrogativi sul futuro del turismo in Europa meridionale, considerato il crescente impatto delle ondate di caldo sulle destinazioni vacanziere. È essenziale che i governi e gli operatori turistici si adoperino per sviluppare strategie di adattamento al cambiamento climatico e promuovere un turismo sostenibile. Questo potrebbe includere misure per ridurre l'impatto ambientale del turismo, migliorare la gestione delle risorse naturali e promuovere la diversificazione delle attività turistiche per ridurre la dipendenza dalle stagioni estive. In sintesi, il confronto tra il conduttore televisivo italiano e il ministro tedesco della Sanità ha messo in luce una serie di questioni cruciali riguardanti il cambiamento climatico, le relazioni internazionali e il ruolo dei media nell'informare il pubblico. È fondamentale cercare un equilibrio tra difesa delle proprie posizioni e apertura al dialogo e alla collaborazione. Solo attraverso uno sforzo congiunto e una comprensione reciproca, sarà possibile affrontare con successo le sfide del cambiamento climatico e promuovere un futuro sostenibile per l'Europa meridionale e il resto del mondo. Prima di concludere, vorremmo ringraziarti per la visione del nostro video e invitarti a iscriverti al nostro canale e attivare la campanella delle notifiche per ricevere aggiornamenti sulle ultime notizie e curiosità. Sarà un modo per rimanere sempre aggiornato su eventi di grande rilevanza come questo. Inoltre, apprezziamo molto i tuoi commenti e feedback, quindi non esitare a lasciare un commento qui sotto con la tua opinione. Grazie per il tuo supporto.